che attacca da sinistra a destra nel corso della prima frazione con il 4-4-2 con tolto fra i pali Zanetti Materazzi, Samuele Grosso inizia il match in questo momento parte Favietto, palla morbida, palla lontano con i pugni esce e allontana Doni in avanti per Manzini, lo va a contrastare Matrix, attenzione alla rapidità del brasiliano entra in area dalla sinistra, gioco di gambe, va al tiro, c'è una deviazione e c'è il primo corner del match Piera centralmente potrebbe fare un cambio di gioco, un costo-coste su Dechi invece se ne viene qua sulla destra per il passo doble attaccato da Cuffre, gioco di gambe, eccolo qua, cerca di infilarsi salta, se ne beve due, attenzione Luigi, arriva dentro, salta al terzo Grosso, Grosso, la mette dentro, la mischia Doni riparte da Roma però, c'è un buon disturbo di Ibra che ruba palla Dechi se ne va, Ibra, attenzione, possiamo andare, tenta il tiro, un po' ambizioso siamo al limite, salta secco Materazzi, arriva al limite dell'aria carica al destro, palla dentro, Taddei, pericolo, Manzini, il solo il tiro palla fuori ma e questa è la Roma, eh palla sul sinistro che il piede è sporco per Toldo che sbaglia, infatti il rilancio ripartono allora con Panucci palla dentro, attenzione, svirgolano e c'è il gol della Roma clamoroso errore clamoroso errore difensivo rivediamolo, il cross di Panucci vedete che svirgola Zanetti Toldo cerca addirittura e si trova beffato in realtà Francesco, dalla giocata non se l'aspettava pensavo che Zavier era in anticipo se è Mancini giustamente però è passato entro le gambe e dopo non ha potuto fare niente attenzione però Totti la ripartenza con Taddei entra in aria palla fuori, pericola, qui là nel tiro Taldone Taldone Adri controlla, difende, scambia con Figo ancora, cambio di gioco per Dechi Dechi di testa di prima per Ibra, va dentro, Metzess si oppone c'è una deviazione, c'è il corner numero due per l'Inter bellissima azione c'è un anticipo di Cuffre su Figo che riparte, fa ripartire Aquilani contro Piede per la Roma Aquilani al limite dell'aria Totti, Aquilani è solo contro Taldone, il tiro, il gol del 2-0 non c'è niente da dire complimenti a questa Roma che un po' come nella gara dello scorso campionato ci sta beffando con l'arma della rapidità e della ripartenza e degli inserimenti degli uomini da dietro parte Grosso in sovrapposizione palla limite per Ibra c'è il fallo ai suoi danni difende, palla, attenzione tocca fuori per Vierac che allarga di prima per Grosso può andare al cross attenzione Fabio palla dentro, arriva l'anticipo è di Cuffre su Ibra recupera la palla ancora Grosso Vierac carica il destro e il suo non è né un tiro né un passaggio attenzione Grosso cerca di andare Stancovic dalla sinistra si va a vedere Grosso ma c'è la palla dentro e qua reclama qualcosa reclama qualcosa Patrick Vierac rivediamolo il cross di Dekhi la palla dentro e si ha ragione perché Cuffre lo trattiene lui si lascia un po' andare Cuffre palla per Aquilani bravo ad appoggiarla di prima laterale per Cuffre che la mette dentro non c'è fuori gioco di Manzini si arrabbia il mancio in panca attenzione Manzini la tocca per Aquilani che allarga per Taddei tiene palla viva dentro l'area uno contro uno con Grosso il cross il velo il tiro il terzo gol ma non si può prendere un gol così tutto solo nessuno marca arriva troppo tardi Samuel recupera la palla ancora Panucci può andare al cross palla dentro colpa di testa tutto solo da parte di Rodrigo Taddei che sciupa palla per Zanetti dentro l'area attenzione Capitano carica il sinistro e peccato non sarebbe male fare un gol adesso eh no sarebbe proprio una cosa buona perché vorrebbe dire andare a riposo un intervallo con il morale leggermente più alto di quanto sia in questo momento parte la traiettoria di Figo palla morbida coppa di testa è gol 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 vienerà Patrick vienerà è grande che è stato Patrick questo gol è veramente è venuto veramente bene perché fa bene al morale sicuramente da un carica in più la grande pennellata di Luis Figo pallone con scritto spingimi avevo chiesto prima palloni soffici inizia in questo momento il secondo tempo palla Samuel per Ibra attenzione cerca 1-2 con Stankovic carica il sinistro Figo buia alta forza ragazzi al minuto 1 sbaglia Taddei non ne approfitta Cambiasso palla dentro Aquilani Taddei esce toldo palla fuori per Figo siamo al vertice sinistro dell'aria carica al destro per il cross morbido palla centrale Cambiasso cerca la veloce con Adriano a limite attenzione va dentro Panucci attenzione passo doble che va in azione personale attenzione Figo arriva al limite salta nuovo un secondo allarga per Crespo può andare a metterla Crespo carica al destro il tiro un tiro in porta c'è al minuto 18 di Crespo Maicon l'appoggia bene laterale per Dechi che può andare mette la freccia al drago attenzione che va cerca di andare al cross palla dentro Crespo a gol 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 a arma letale arma letale riapriamola arma letale grandissimo cross eccezionale Stankovic lì in azione Maicon Stankovic cross primo pallo quello che chiede Mancini lui c'è e si vede subito e segna Cambiasso ancora per passo doble gioca bene la trequartista arriva al limite attenzione salta un uomo un secondo Ibra il tiro no che peccato era la palla del 3-3 palla nello spazio bellissima per Maicon allarga Dechi carica adesso il tiro la parata eeeh non c'è calcio d'angolo si riparte con Viera Viera che allarga bene per Ibra eccolo qua Ibra fronte di sinistra lo attacca Panucci lo punta entra in aria la magia palla fuori Viera il tiro salvataggio di De Rossi attenzione Cuccio palla dentro Figo tornare il tiro la parata di Doni ancora Cambiasso sbaglia l'appoggio Roma in affanno recupera Zanetti ancora palla gola il 27 con Luis Figo palla larga Ibra attenzione Ibra cerca la veloce con Viera che difende bene il pallone il suo cambio di gioco Figo regolare il cross la parata il miracolo di Doni forza ragazzi il tocco del Cuccio cambia tutto largo sulla destra per Stankovic controlla c'è Manzini che lo va a disturbare parte il cross palla dentro attenzione il colpo di testa di Cambiasso al limite Crespo Ibra il suo tiro è gol 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 Viera è 3 a 3 è 3 a 3 è 3 a 3 al 28 rimediamolo il cross di Dechi il pallone fuori Cambiasso Crespo il numero Ibra il pallone dentro arriva Viera sotto misura è gol è 3 a 3 la grande rimonta Benoit fantastico eccezionale è da vivere Zanetti per Figo difende numero si beve Palucci come un crodino può andare a cross palla dentro contro Crespo non ci arriva Ibra ancora pericolosi palla per Viera all'imido attenzione Crespo quasi andava in porta Cristian Panucci che può avanzare esce Viera al disturbo il suo cross attenzione Uomo che arriva là in fondo il tiro non finisce l'assalto nerazzurro palla giocata larga per Stankovic largo c'è Maicon Dechi carica al destro è un tiro ambizioso ma impreciso si è approvato Inter che accelera Figo attenzione vai passo doble palla dentro per Crespo entro dalla sinistra uno contro uno attenzione ci prova Ibra il tiro oh vuori clamorosa palla golla piazzata mettendo sedere Doni Sciupa guardiamo il passaggio la piazza il portiere è spiazzato ha dato un'assista ha dato una oh e l'arbitro in questo momento fischia la fine della partita la fine dei 90 minuti è 3 a 3 l'applauso del pubblico del Meazza torniamo in Cranaca con la Roma in possesso di palla si gioca da 30 secondi il capitano può andare al cross si ferma parte la sua traiettoria palla dentro Crespo manca l'impatto attenzione e reclamano un po' ma è figo uno dei migliori in campo palla al limite Ibra cerca il numero cade a terra l'abito del calcio di punizione figo parte la rincorsa il suo pallone è gol 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 il passavabile Poccarone Luigi figo al minuto 4 forza ragazzi forza ragazzi nell'angolino alto la missa un po' angolato ha ingannato il Poccarone è troppo lavoro Benoit l'ha ingannato il Poccarone grande giocata di Luis Figo è stato palla dentro bene per Luigi Figo siamo al limite dell'aria l'1-2 con Crespo attenzione Figo va dentro arriva al limite cerca di saltare secondo uomo punizione ancora se ne è bevuti altri due o tre fanno tutto lo stadio la rincorsa di Matrix il suo sinistro il tiro tribuna e l'arbitro dice che finisce il primo tempo supplementare palla giocata su Oli Dacour si fa vedere nello spazio Crespo di prima viene avva dentro attenzione può andare il suo cross palla lontano Doni c'è primo minuto di recupero che è passato parte Figo suo pallone a giro Karner l'ha messa là ed è finita finita l'Inter vince il primo trofeo dell'edizione 2006-2007 di questa stagione arriva in casa Nerazzurra «Dria» «Dria»